Oh mio Dio, oh mio Dio, raga è difficilissimo, raga è difficilissimo, io no, io lo sto facendo Ma sei scemo! Io ci sto riuscendo, no mio Dio al telefono, fai nepproccalo! Aspetta, stacca il telefono! Quest'oggi facciamo i dropper di Minecraft su Fortnite, parco giochi, sì, bene No, stai, ti prego, no, non questo! Il concetto è molto semplice, devo dire pure che sono molto arrabbiato, io ho pensato a quest'idea, ce l'avevo scritta da una parte, ok Entro in un canale internazionale, è vero, 14 ore fa ho fatto il dropper, io ho fatto porca miseria, mi anticipano sempre E quindi abbiamo perso fare, sono stato sconfitto di idee Siete collegati telepaticamente, non lo sai L'ha pensata prima di me evidentemente, in ogni caso, allora, funziona in questo modo, è molto semplice, si può fare da quando c'è il bouncer, ovviamente Facciamo un posto gigantesco, lo facciamo tipo a larghezza 4, mettiamo un sacco di pedane e le modifichiamo in punti diversi In modo tale che si formino dei buchi dove continuare a scendere, bla 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 Si schiva, quindi si cerca appunto di non cadere e atterrare e quindi perdere E si deve riuscire ad arrivare fino in fondo nell'unico punto in cui c'è il bouncer Ok, ok, perfetto Miss il bouncer, ovviamente mori Allora, sinceramente a pinnacoli pendenti io ci facciamo nulla, Ferre Perché ci servono materiali, ci servono bouncer e basta Non ci serve un'arma, non ci serve nulla Io stavo lutando, stavo aprendo un bottone E quanti bouncer hai trovato? Zero, però lo stavo facendo Vabbè, scopo fuori e scendiamo in giro Brava, ci servono lama, Ferre Eh, lo so, tanti lama Semplicemente, neanche troppi, neanche troppi Quanti bouncer ci servono? Ci serve uno Ah, uno e basta Non lo puoi mettere anche in giro, magari per sviare, no? Eh, no, no, che svi La tua faccia svio No, che magari capiti da una parte, inizi a rimbalzare, diventa ancora più strano il dropper No, perché a quel punto sopravvivresti Va bene, va bene Ma Ferre, ma non capisci nulla Va bene, va bene Ma fai schifo, Ferre Tu fai schifo Tu fai schifo, io non faccio schifo Allora, sto andando a cercare di la mano e mi rompere le scatole, ciao Ok, ciao, io ne ho trovato uno Stiamo andando particolarmente bene E adesso altri 2000 materiali da utilizzare Quindi, secondo me, potremmo addirittura finire Ferre, non ti lamentare, sono quasi arrivato Uso un bel trampolino Eh, ho capito, ma c'è ancora un pozzo di lavoro da fare Ma non siamo così lontani dalla massima altezza, secondo me Sì, ma poi devi spaccare tutto Ci vuole ancora un pozzo di roba Due minutini a spaccare Ma cosa vuoi che sia? Allora, adesso ti dico quanto sei lontana dalla massima altezza Perché sono io a massima altezza Ok, così ti dico quanti livelli all'incirca ti mancano Purtroppo sembrano tanti, eh Ecco qua Perché partendo dal lago, comunque si può buildare di più rispetto ad altri punti Quindi Eh, beh, certo, però ci sta Oh, no Mi duele dirglielo Ma qua la situazione è grave No, Steph Cioè, ci sei arrivato e sei lì su Sì, ciao Ma sei pazzo Ciao Cioè, siamo tipo a metà, Steph Non esagerare Siamo a metà Perché sei sempre così drammatica Perché siamo a metà Non siamo a metà Sì, che siamo a metà Siamo a tre quarti Dai, sì, siamo a tre quarti È tutto a posto È tutto a posto Io lo uccido Ciao, Fede Come stai? Malissimo Tutto bene? Ci pensa, Steph Velocità della luce Nel building è il più veloce Nel building lui è super veloce Nel building non lo batte nessuno Non ci bisogna incantare, Steph Rendi solo tutto molto più triste È noioso Però guarda che energie che do Ok No, non dà energie È solo energie negative Opla Ok, guarda Cioè, siamo tipo a 4-5 livelli dall'altezza massima Sì, sì, va bene, va bene, va bene Ok Quindi, allora Facciamo che questo È lo start Ok E noi dobbiamo scendere Oh, che noia quando si bagga la porta Potremmo fare che si scende Tipo Ma questo può andar bene Sapete che Questi fattori Abbastanza randomici Non sono male Nel senso Che potrebbe Andare abbastanza bene Questo È tipo cattivissimo Ok Ma Come faremo in caduta a schivare le cose, Steph? Cioè, su Minecraft È un po' più di mobilità Qui no È quello che mi preoccupa tantissimo Quindi non esagerare Secondo me Con tutte le cose Perché secondo me Rischiamo Che poi non puoi virare molto E ti spiace Chi lì è finita Capito? Può essere Quindi non è una bella cosa Può essere, certo Allora, inizio a sistemare qui fuori Ok Io direi di fare una roba del genere Facciamo tipo anche così In modo tale che praticamente si può passare da lì E però lo semplifichiamo un po' Diamo un po' di tempo per fare questa manovra Poi Si deve passare per forza da lì Però a un certo punto all'improvviso Spim Secondo me stai esagerando come il tuo solito, Steph Sì, è probabile Vabbè, lo testiamo Poi nel caso si modifica il volo, dai Sono ancora qua Ci sta Ok Ok Vai, Steph, inizia Mort No, Steph Non vira il personaggio Te l'ho detto Vira meno di Minecraft Ma molto meno Molto? Allora, ok Che sembra? Impossibile, Steph Sei proprio morta subito? Eh sì Come te Abbiamo fatto 24 metri Tutte e due Ok Cioè, quindi proprio No Allora, un'idea Dato che da noi vira poco Possiamo usare il jetpack Che tanto si scarica Quindi devi comunque essere bravo a usarlo Oppure così Signore, incredibile Guarda che figo Che impecino No, Fede Guarda che spettacolo Questo è il dropper 2.0, raga Questa roba qua è il 2.0 di Fortnite Cioè Eh ma cadi per forza lì Non c'è difficoltà E devi saper bilanciare, eh Opla Incredibile Troppo forte Lui Non ti è piaciuto? Non tanto Facciamo la versione jetpack E vediamo come va Sì, aspetta che ne ho trovato uno qua Ecco E quello è O il mio o il tuo? Non lo so Io sto risalendo Ci metto un pochettino Guarda No, potrei mettere I I bouncer Che ti sbalzano E ti fanno toccare il pavimento Eh? Sì Però Diciamocelo che i canali internazionali Queste cose di Steph Non le pensano Per fortuna Ammettiamolo Aggiungerei per fortuna Steph Non è un pregio Essere imbecilli Cioè È una cosa negativa Tu questo lo dovresti Capire Dai comunque Così sì È fattibile Ok Ciao Steph È rischiato Aia Che veciro Dai ma proprio lì Mi si doveva fermare il jetpack Dai no Così Col deltaplano è facilissimo Era più difficile col jetpack Perché il jetpack Te lo devi gestire Quello è più difficile Ok Però Non lo so Stai con me mettendo i bouncer Nei punti giusti Può diventare difficilissimo Perché a quel punto Devi stare proprio ancora più preciso Perché ti avvicini troppo al muro Ti sbalzi E tocchi il pavimento E hai perso Esatto Non muori ma comunque hai perso Vediamo Ne ho messo soltanto due Perché poi sono schiettato per sbaglio Non volevo morire Però voglio vedere se Aumentano davvero la difficoltà Sì ma ci servono dei jetpack qui Oh no Niente di che Ok Allora tipo Vedete qua c'è il bouncer Insomma Insomma Più che altro si potrebbe Figata Si possono fare un sacco di cose Comunque con i dropper su Fortnite Più di Sinceramente più di Minecraft Sinceramente più di Minecraft Eh vabbè Potrei rimodificare tutto Creare un buchino minuscolo E doverlo fare tutto di paracadute Lo vuoi vedere? Vai No Sì No 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 Non le spira No Steph Lo volevamo vedere Vai siamo tutti qui Non è vero Mi stai prendendo in giro No Steph Tranquillo Beh guarda Tu mi vuoi prendere in giro Tu vuoi venire Ed è assurdo Mentre stiamo facendo il video Ci pensi prima o ci pensi dopo Ah Ci penso durante Dai muoviti E mi sto muovendo Sto risalendo La cascata Ferre È dura qua È durissima Non ho neanche uno di materiale Tu ne hai recuperato? Ferre non ti buttare Ti prego Mi servivi? Ferre mi servivi? Ce l'avevo quasi fatta però Eh però è partendo dall'inizio? Eh quasi Eh quasi Allora non ho fatto tutto Ho sbattuto in un angolino Quindi avevo già perso un po' di vita Allora adesso ti faccio vedere la mia idea Comunque modifico quello che posso Rendendolo più difficile Però poi mi servono i materiali Che non so bene dove siano finiti Sinceramente Da qualche parte comunque sono Ok 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 Tipo modifico comunque anche qua Ok Se riuscite a scendere giù Vado a prendere i materiali Noioso Poi Devo andare a modificare questo E tipo farlo tornare Facciamolo tipo così I materiali ti servono? Molto più difficile Cosa? I materiali ti servono? Qualsiasi cosa Devo soltanto rimettere un po' di piattaforme Capisci? Ok Ok Qua Sarebbe così Che però poi Qui ad esempio è troppo semplice Noi facciamo così E lasciamo soltanto questo Lasciamolo fare Da questo lato invece facciamo tutto così E quindi l'unico modo per passare è di qui Che però poi Va all'improvviso Che nessuno se lo aspetta A switchare soltanto con quello E quindi è ta ta Questi tornano normali Che quindi non puoi toccare E dopodichè qua all'improvviso Spam Perché tu devi virare Ed andare lì Ok È finito Sì Hai paracadute? Eh no Paracadute Eh c'è spawnare No vabbè Brutto Sì No Non sono accettabile le cose brutte qua Quindi noi facciamo così E mettiamo che tipo È questo No dai Non esageriamo Facciamo così allo start E questo però si tappa Poi Cioè è veloce È veloce da risalire Velocissimo Qua facciamo Che tipo è così E c'è uno spazio È soltanto qua È qua E va bene Poi Qui Lo spazio è soltanto qua Ed è questo È questo Mamma mia Ora voglio vederti A dire che è ancora semplice Voglio ancora Voglio proprio sentirti dire Steph è troppo semplice Guarda Non vedo l'ora Vediamo Ok Poi qui Bisogna assolutamente Rirenderlo un po' più complesso Che potrebbe comunque Andare bene così Perché non voglio esagerare Poi da qua Si va qui Però questo pezzo È troppo semplice Quindi di nuovo Andiamo a fare Tipo ta E tipo ta E va bene E qua lo tapiamo Da qui Questo pezzo Non è per niente male Se lo lasciamo così E si va qua Da qui si deve scendere così 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 Ok Secondo me si può già provare Ok Quindi io Cerco di ammazzarmi Non ci sono riuscito Mi dispiace Eccomi Ah peccato Allora adesso Tecnicamente mi do Buttà giù no? Si ucciditi E parti col paracadute Se ho ragione Ora è bellissimo Quindi è il nostro momento No non cadere Si carica Volevo tenermi il jetpack Per eventuali altre cose dopo E me lo lascio qui sopra No non c'è nulla di troppo Questa è la perfezione Io vado Come esco? Aspetta Devo uscire da qui Dai schiatta veloce Che lo facciamo insieme Ma non rompere E' difficilissimo Ok Ma neanche vedi buchi E' difficilissimo Cioè come fai? C'è il mattone Tutto uguale Subito a sinistra Sì certo Vedo un pochettino Il bordino Ok Oh mio dio Oh mio dio Ragazzi è difficilissimo Ragazzi è difficilissimo Ho già perso Io no Io lo sto facendo Ma sei scemo Io ci sto riuscendo No mio dio Il telefono La perfezione Stacca il telefono Ok ce l'ho fatta Guarda Fere Lo faccio tutto Anche con il telefono Che squilla Ti prego Stef non sbagliare adesso Stef non sbagliare adesso Stef non sbagliare Fere Ho creato il dropper Più figo Mai fatto su Fortnite Ma è bello eh Ora è figo Ora è figo Almeno ti sei ripreso Difficilissimo Riprovi? Dove riprovarla una volta? Vai Perché tu ovviamente Sapevi com'era Quindi sapevi bene Dove girare Ma è davvero difficile Cuniculetti Però è fattibile Questo è quello che volevo scoprire È fattibile E quindi è bellissimo Se l'hai finito è fattibile Ed è come un dropper di Minecraft Chi l'ha costruito Tendenzialmente lo sa finire Certo Però chi lo prova È in difficoltà Comunque è subito a sinistra il primo No l'ho capito L'ho capito Ok Devi essere precisissima Allora Ok Lì Quel cuniculetto Ok Aiuto Calma Bravissima Ce la sta facendo eh Cioè è complicatissima sta roba Quel buchino No Perché mi sei incastrato qua Era più o meno a metà raga Era più o meno a metà No Ci devo riprovare Bello Ci devo riprovare Bello Adesso vabbè Magari chiudiamo il video Perché sono esce di 40 anni Ok Però io me lo riprovo Ammetti No questo è fatto bene Ok Se le cose le fai bene te lo dico Grazie mille Quindi Consolini Se mi riuscite a fare un dropper Fighissimo e unico Super mega bellissimo Sono super soddisfatto Come sempre qua sotto Compariranno altri video Sempre follie E tutto quello che c'è di Fortnite Parco giochi Perché ci piace un sacco fare queste cose Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao